Il principe Harry, nome completo Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor, è un nobile e militare britannico. Principe e membro della famiglia reale britannica. Cinque gradi in linea di successione al trono del Regno Unito, dopo il fratello e i tre nipotini. Ma perché Harry avrebbe impedito a William di venirlo a trovare? A quanto pare il motivo risiede nella versione del duca di Sussex verso la stampa. Era preoccupato che i segretari di William facessero trapelare la notizia. Ha preferito, quindi, evitare di vedere suo fratello piuttosto che rischiare speculazioni sui giornali. I rapporti tra William e Harry sono stati a lungo tesi, nonostante la loro vicinanza durante la loro giovinezza. Si dice che si siano incrinati prima del matrimonio di Harry con l'ex star di Sussex, Meghan Markle. Harry accusava il fratello di essere snob nei confronti della sua futura sposa. La situazione è peggiorata dopo la morte della regina Elisabetta II e il rilascio delle accuse dei duchi di Sussex verso William e sua moglie Kate Middleton. Recentemente, Harry è tornato nel Regno Unito per un breve soggiornò in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Manifestazione sportiva a scopo benefico, patrocinata dallo stesso duca. Non è stato ricevuto né dal padre Carlo III, né dal fratello maggiore. Il motivo adotto è stato la presenza di impegni pregressi già concordati. Harry è stato visto unicamente in compagnia degli zii materni.